Buonasera cari connazionali e cari connazionale il governo ha indetto questa conferenza stampa alle ore 11 di sera per non dire niente di importante fondamentalmente ma solo per regalarvi i migliori luoghi comuni di questo periodo di noia alcolismo e ampissimo ampissimo consumo di giga il lievito è razionato stanno i streaming l'esame di stato cuoro carlo ci aveva sperato ma la vecchia l'ha rinculato non capisco che c'è il rischio del contagio ma io presto dentro a casa mi entristisco quindi prendo il gatto ed esco sotto casa col guinzaglio mi vergogno ma sto meglio quando parlo con emilio quello è sceco coniglio metto l'asio è ricoperato so che il papa ha parlato col capo ne baso non l'han trovato skype a nonna chi l'ha installato informazioni multiple complotti come nuvole ognuno qua la sua lezione oppure la televisione io non so che cosa dire quindi vi lascio parlare o martello che va a tempo non lo posso più formare video chat su whatsapp mamma mia che diavoleria ore di conversazione per capire solo che nessuno ha la maria e allora cucino piatti da novel cuisine ma sogno tanto un servizio just drink questo beat che è una hit sembra missile di chimme anche se tu sei lontano io ti vedo sul divano tieni il tempo con la mano no non balli il capitano mentre mangi un porto sano non ti sembra un poco strano e l'europa ci ha abbandonato mascherine col tanga di lapo un campano si è laureato ma del lucca l'ha carbonizzato pure johnson è contagiato e preglias come sembra ciecato fino a luglio 40 nato ma leonardo ci aveva avvisato c'è chi parla di rivoluzione ma saltranno ritorno al pallone per gamella è stato avvistato qualche puffo l'ha pure assaggiato ha aggiornato l'autocertificato porca troia mi sono scordato mi sa il papa non l'hanno cagato poveretto lo almeno ho provato questo beat che è una hit sembra missile di chimme anche se tu sei lontano io ti vedo sul divano tieni il tempo con la mano no non balli il capitano mentre mangi un porto sano non ti sembra un poco strano questo beat che è una hit sembra missile di chimme anche se tu sei lontano io ti vedo sul divano tieni il tempo con la mano no non balli il capitano mentre mangi un porto sano non ti sembra un poco strano questo beat che è una hit sembra missile di chimme anche se tu sei lontano io ti vedo sul divano Tieni il tempo con la mano, no non balli il capitano Mentre mangi un porco sano, non ti sembra un poco strano Sto beat che è una hit, sembra un missile di Kim E anche se tu sei lontano io ti vedo sul divano Tieni il tempo con la mano, no non balli il capitano Mentre mangi un porco sano, non ti sembra un poco strano Tieni il tempo con la mano, no non balli il capitano